ciao sono cinzia di wonderful sound sapete che con noi questa sera in trasmissione abbiamo un live il live di van morrison a the grand opera house best belfast allora questo è un live che è stato registrato nel marzo tra l'11 e il 12 marzo 1983 e l'album è composto da da quattro album anzi cinque album che van morrison aveva sino ad allora tra i tanti cioè tra moon dance beautiful vision e poi in articulate speech of the heart e into the music e con one bene questa sera ascolteremo la la musica di questo di questo grande evento che c'è stato appunto nel 1983 allora iniziamo subito con ascolteremo adesso una into the mystic questo è l'inizio con con questo brano una versione strumentale da questo capolavoro di album del 1970 di van morrison intitolato moon dance e poi avremo in articulate speech of the art che da il appunto il titolo all'album del 1983 questo il 14esimo album ed ancora più avanti un classico di van morrison dweller on the threshold da beautiful vision a tutti il buon ascolto e questo ci risentiamo fra poco per al per presentare le altre canzoni di questo stupendo live a belfast grazie a tutti 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 Grazie a tutti